Buongiorno a tutti, sono Francesca, come al solito sto per uscire e ho deciso di mostrarvi quest'altro prodotto di questa ditta americana, come dico sempre, che costa pochissimo, che si chiama NYX e il motivo per cui sono stata affascinata da questo prodotto è che non ho mai capito come fanno le ragazze in particolare le ragazze che lavorano in profumeria, che hanno questi ombretti pazzeschi, bellissimi, perfetti e rimangono lì impeccabili tutto il giorno, mentre quando io mi metto l'ombretto dopo due secondi è andato via, si è mosso, si è spanto questo è un primer per l'ombretto, quindi in sostanza metti questo prodotto sulla tua palpebra prima di mettere l'ombretto e l'ombretto rimane lì tutto il giorno, addirittura questo è un primer waterproof, quindi resistente all'acqua e io non l'ho mai provato, è la prima volta che lo metto, sono anche un po' preoccupata della cosa opposta cioè che stasera, siccome io non ho struccanti tecnologici, non ho niente, probabilmente non riuscirò a togliermi l'ombretto però dai, voglio fare questo esperimento, quindi non ha un buon odore, vabbè perché chiaramente è un prodotto che serve a attaccare no, sembra quasi un pennarello come odore e allora, mettiamo questo prodotto qui, chiaramente è trasparente, è leggermente color carne ma l'effetto ovviamente è completamente trasparente ok, sembra di mettersi la colla e quindi con questo in teoria potete addirittura andare in piscina con il vostro morosetto e avere ancora il trucco addosso pazzesco, incredibile probabilmente le nuotatrici di nuoto sincronizzato lo utilizzano ho scelto questo ombretto argentato, lo adoro e ovviamente regolarmente durante la serata mi si spalma in giro per la faccia chiaramente più tardi, se qualcuno si ricorderà vi racconterò come è stata la durata dell'ombretto durante la serata perché io ora terrò questo ombretto addosso fino a questa notte, fino a quando non andrò a dormire quindi se volete vi scriverò più tardi sulla chat del video come è andata la serata ecco qui allora, l'effetto dell'ombretto mi sembra come dire, mi sembra simile però, sì, non lo so ragazzi sì, si vede che ha attaccato meglio ha attaccato meglio rispetto al solito però, per darvi una conferma dovrei aspettare questa sera, questa notte dopo la mia serata vi risparmio l'altro occhio perché sarebbe la stessa identica cosa quindi, non lo so, questa sera vi racconterò se questa cosa realmente funziona se il mio ombretto rimarrà attaccato tutta la sera oppure no però, secondo me, è così cioè, obiettivamente, quando tu metti l'ombretto in particolare l'ombretto in polvere non sta attaccato, va in giro per la faccia quindi, secondo me, questo prodotto non è una cosa stupida costa sempre sugli 8 euro quindi, sempre una cifra ragionevolissima NYX Proof It Waterproof Eyeshadow Primer ecco qui buona serata a tutti da Francesca ciao, ciao